Sapete che io non faccio mai trionfalismi quando ci sono queste classifiche, per me la classifica più importante è quella che fanno i nostri cittadini, però c'è da dire che la classifica del sole 24 ore arriva dopo quella di Italia Oggi, in entrambi i casi Firenze ha recuperato tantissime posizioni nella classifica del sole, siamo undicesimi su 107 ma soprattutto siamo stariti dal 27esimo posto fin qui. Siamo la terza città metropolitana d'Italia per qualità della vita e soprattutto la prima grande città del centro Italia, merito a quanto mi viene spiegato della qualità dei servizi agli anziani, proprio ai bambini e questo è un dato che ci incoraggia e ci spinge a fare meglio, del resto è anche una conferma della nostra azione di governo che evidentemente va nella giusta direzione, per questo ringrazio tutti i cittadini e tutti i miei collaboratori.